Visto che Luisa è la primogenita delle anime che formeranno la seconda generazione dei figli della luce, in che cosa consiste la sua missione? La risposta è reperibile nelle parole del seguente dialogo avvenuto tra Luisa e Gesù il 26 novembre 1921. Stavo pensando a ciò che sta scritto il giorno 19 del corrente mese, e dicevo tra me, com'è possibile che dopo la mia mamma possa essere io il secondo poggio? Il mio dolce Gesù, attirandomi a sé dentro una luce immensa mi ha detto. Figlia mia, perché ne dubiti? Qual è la ragione? La mia grande miseria. Questo mettilo da banda. E poi, se non eleggevo te, dovevo certo eleggere un'altra della famiglia umana, perché questa si ribellò alla mia volontà, e col ribellarsi mi tolse lo scopo della gloria, dell'onore che la creazione doveva darmi. Quindi un'altra della stessa umana famiglia, con l'avere un continuo connesso col mio volere, col vivere più con la mia volontà che con la sua. Abbracciando tutto nel mio volere. Doveva elevarsi su tutto per deporre ai piedi del mio trono la gloria, l'onore, l'amore che tutti gli altri non mi hanno dato. Unico scopo della creazione fu che tutti compissero il mio volere. Non fu che l'uomo operasse cose grandi. Anzi le guardo come un non nulla e le disprezzo se non sono il frutto della mia volontà. Perciò molte opere nel più bello vanno a sfascio. Perché la vita della mia volontà non c'era dentro. Onde l'uomo, avendo rotto la sua volontà con la mia, mi distrusse il più bello. Lo scopo per cui lo avevo creato. Lui si rovinò completamente e mi negò tutti i diritti che mi doveva come, suo, creatore. Ma le mie opere portano l'impronta dell'Eterno. E non potevano la mia infinita sapienza e il mio eterno amore lasciare l'opera della creazione senza i suoi effetti e i diritti che mi spettavano. Ecco perciò la redenzione. Volli espiar con tante pene le colpe dell'uomo, e col non fare mai la mia volontà, ma sempre quella della divinità, anche nelle cose più piccole, come il respirare, il guardare, il parlare, ecc. La mia umanità non si muoveva, né aveva vita se non era animata dalla volontà del padre mio. Mi sarei contentato di morire mille volte anziché dare un respiro senza il suo volere. Con ciò riannodai di nuovo la volontà umana con la divina, e nella mia persona, essendo anch'io vero uomo e vero Dio, ridavo al padre mio tutta la gloria e i diritti che gli convenivano. Ma il mio volere e il mio amore non vogliono essere soli nelle opere mie. Vogliono fare altre immagini simili a me. E la mia umanità, avendo rifatto lo scopo della creazione, per l'ingratitudine dell'uomo vidi lo scopo della redenzione pericolante, e per molti andare quasi a sfascio. Perciò, per rifare che la redenzione mi portasse gloria completa e mi desse tutti i diritti che mi si dovevano, presi un'altra creatura della famiglia umana, quale fu la mia mamma, copia fedele della mia vita, in cui la mia volontà si conservava integra, ed accentrai in lei tutti i frutti della redenzione, onde misi in salvo lo scopo della creazione e redenzione. E la mia mamma, se nessuno avesse approfittato della redenzione, mi avrebbe dato lei tutto quello che le creature non mi avrebbero dato. Ora vengo a te. Io ero vero uomo e vero Dio. La mia cara mamma era innocente e santa, ed il nostro amore ci spinse più oltre. Volevamo un'altra creatura che, concepita come tutti gli altri figli degli uomini, prendesse il terzo posto al mio fianco. Non ero contento che io solo e la mia mamma fossimo integri con la volontà divina. Volevamo gli altri figli, che a nome di tutti, vivendo in pieno accordo con la nostra volontà, ci dessero gloria e amore divino per tutti. Quindi chiamai te, ab eterno, quando nulla esisteva ancora qua giù. E come vagheggiavo la mia cara mamma, deliziandomi, carezzandola e piovendo su di lei a torrenti tutti i beni della divinità. Così vagheggiavo te, ti carezzavo, e i torrenti che piovevano sulla mia mamma inondavano te, per quanto ne eri capace di contenere. E ti preparavano, ti prevenivano e, abbellendoti, ti davano la grazia che la mia volontà fosse integra in te. E che non la tua ma la mia animasse anche i tuoi più piccoli atti. In ogni tuo atto scorreva la mia vita, il mio volere, e tutto il mio amore. Che contento! Quante gioie non provavo! Ecco perché ti chiamo secondo poggio dopo la mia mamma. Non su di te mi poggiavo, perché tu eri nulla e non potevo poggiarmi, ma sulla mia volontà che tu dovevi contenere. La mia volontà è vita, e chi la possiede, possiede la vita e può sostenere l'autore della stessa vita. Onde, come in me accentrai lo scopo della creazione, e nella mia mamma accentrai i frutti della redenzione. Così in te accentrai lo scopo della gloria, come se in tutti fosse integro il mio volere, e da cui verrà il drappello delle altre creature. Non passeranno le generazioni se non ottengo l'intento. Oh Dio, stupita, ho detto, amor mio, possibile che la tua volontà sia integra in me, e che in tutta la mia vita non ci sia stata nessuna rottura tra la tua volontà e la mia? Mi sembra che mi burli. No, non ti burlo. È proprio vero che non c'è stata rottura. Al più, l'esa qualche volta, ed il mio amore, come forte cemento, ha riparato queste lesioni e ha reso più forte l'integrità. Io sono stato a guardia di ogni tuo atto, e subito facevo scorrere il mio volere come al posto d'onore. Lo sapevo io che molte grazie ci volevano, dovendo operare il più grande miracolo che esiste nel mondo, qual è il vivere continuato nel mio volere. L'anima deve assorbire tutto un Dio nel suo atto, per ridarlo di nuovo integro come lo ha assorbito, e poi assorbirlo di nuovo. Perciò oltrepassa lo stesso miracolo dell'Eucaristia. Gli accidenti non hanno ragione, né volontà, né desideri che possano opporsi alla mia vita sacramentale, sicché niente ci mette l'ostia. Tutto l'operato è mio. Se lo voglio lo faccio. Invece, per far succedere il miracolo di vivere nel mio volere dovevo piegare una ragione, una volontà umana, un desiderio, un amore puramente libero, quanto non ci vuole. Perciò ci sono anime abbondanti che si comunicano, e prendono parte al miracolo dell'Eucaristia perché meno si sacrificano. Ma dovendosi più sacrificare nel far succedere il miracolo che la mia volontà abbia vita in loro, pochissime sono quelle che si dispongono. I due brani seguenti continuano a descrivere la missione di Luisa, sempre vista come, primogenita delle anime che formeranno la seconda generazione dei figli della luce. Ecco pure perché ti parlo spesso del vivere nel mio volere, che finora non ho manifestato a nessuno. Al più hanno conosciuto l'ombra della mia volontà, la grazia, la dolcezza che contiene il farla, ma penetrarvi dentro, abbracciarne l'immensità, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque, anche stando in terra, e in cielo e nei cuori, deporre i modi umani e agire coi modi divini. Questo non è conosciuto ancora, tanto che a non pochi sembrerà strano. E chi non tiene aperta la mente alla luce della verità non ne comprenderà nulla. Ma io a poco a poco mi farò strada, manifestando ora una verità, ora un'altra di questo vivere nel mio volere, che finiranno col comprenderlo. Era stato questo lo scopo della creazione dell'uomo. Farlo vivere come nostro figlio, e mettere in comune con lui i nostri beni affinché lui fosse in tutto felice, e noi restassimo divertiti della sua felicità. Ora, il vivere nel mio volere è proprio questo. È il farci restituire lo scopo, le gioie, le feste della creazione. A te forse sembra nulla, oppure che ci siano cose simili nella mia chiesa. No, no. Per me invece è il tutto delle mie opere, e come tale devi apprezzarlo ed essere più attenta a compiere la missione che voglio da te.